Musica Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video Noi siamo i Brothers Players Ho avuto un... P***a Taglia Allora, questo è un video molto particolare Esatto, io per questo non ho detto dove siamo a fare cosa Perché non lo so Ok, allora Partiamo dal presupposto che questa è stata la mia idea di questo video Perché l'ho trovato E io l'ho provato già Ah, basta Eh certo Io l'ho provato già questo video, no? Ed è un test anche per voi, ok? Scrivete poi nei commenti quello Che poi vi dico Ecco, bravo Matthew non sa niente di quello che stare... Ah beh, ecco, tanto ti eri già fermato Allora, lui mi ha detto Vieni a casa mia che dobbiamo registrare Gli ho detto Cosa? Non te lo dico E non te lo dico E quindi io sono qui a... Non lo so, davanti al monitor Vedremo insieme sia io che voi la reaction di Matthew a questa cosa E vedrete... Cioè, comunque anche voi reagirete E male a questa cosa Sempre se non l'avete già No, reagire... Eh sì, in teoria Saranno scandalizzati Cioè, questo qui c'ha 7000 iscritti Ha pubblicato questo video e 5 milioni di views E mezzo E mezzo Più 50.000 mi piace Questo è un test... Auditivo 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 Audicolare È un test... Audio È un test audio, diciamo Allora, praticamente noi, esseri umani, possiamo sentire delle... Fino a una certa frequenza Ok? Cazzo di sì! Questo video... C'è paura Esatto Questo video testerà fino a quale frequenza noi tutti riusciamo a sentire Cioè, noi nel senso io per i cassi miei e tu per i cassi miei Sì, ognuno ha un orecchio diverso, ovviamente E ognuno può sentire fino a una frequenza diversa Quindi, Matthew Ora Siamo in questa postazione diversa Siamo al computer Esatto, al suo computer Perché io ancora me lo devo comprare E faremo anche un video dedicato a quello Poi era incredibile Sei pronto? Ma mi devo mettere anche un'altra cucchia? Eh no, tanto si sente lo stesso Anzi, adesso un po' Io c'ho paura Io non so cosa sto andando incontro Io sono un cagasotto Allora Si comincia Tanto non devo vedere tanto Perché io c'ho qua un po' bloccato dal tele No, più che altro lo devi sentire Il video sta cominciando Allora 500 H Senti? Eh sì che sento Ok Esperimenti con i Brothers Players Senti? Sì Sono paura io No, no, vai tra Senti? Sì Io c'ho un orecchio di ferro Senti? Sì Ma io tranquillo Un po' troppo alto Dice che il suo fratello Qua già non riesci più a sentire Tu senti? Sì C'è la Senti? Sì Ok Così sento bassissimo Bassissimo Ok, anch'io Ma che cazzo è? Tranquillo Sento tipo un Ok Io se lo sento un po' più forte Come? Appena appena Anche adesso Ok Io mi spunto le orecchie Quasi un cazzo Senti? Pochissimo Basta Non senti più? Basta Io sono arrivato a 13.000 Allora Fermi tutti Stoppiamo Allora Stoppato Ok Cazzo Allora Io sono arrivato a 13.000 13.000 io non sentivo niente Però lui sentiva Tu sentivi Sì Cioè sentivo Io Io Ti giuro Fra io non sento più niente A 13.000 No fra io sentivo Te lo giuro Io no Io no Io a 13.000 Non sento più Io non sentivo Quindi boh fateci sapere voi Fino a quale frequenza riuscite a sentire Il tiiii il suono E' una figata sta cosa Ti ho detto è una figata assurda Fammi fammi Io riesco a sentire fino a 13.000 A 13.000 non sento più niente Adesso ho rimesso a 12 Ci sento benissimo Io lo sento Non sento più niente Io si Veramente lo sento Si fra ma tipo pianissimo Cioè non ti pensare che sento proprio sento Però lo sento il Io non sento La linea Io non sento Io mi fermo a 13.000 Lui a 14.000 Cioè è una figata assurda È una figata assurda sta video Ma what the fuck Scriveteci voi qua sotto nei commenti Fino a che frequenza sentite Fino a che frequenza arrivate Soprattutto condividetelo ai vostri amici Esatto Ai vostri amici ragazzi Per fargli provare anche a loro questa cosa Ovviamente il nostro video dovete condividere Giustamente Vi lascio anche questo video in descrizione Così se volete sentirlo senza le nostre facce Potete tranquillamente farlo Ma anche senza cuffie dici che non si sente Eh sì perché il tuo orecchio arriva al limite Ma che cazzo Ma che in realtà Cioè tipo io sono arrivato a 14.000 Ma in altezza Cioè non è che si è abbassato Fino a spegnersi In realtà c'era suono Ma frattissimo Io non lo sento Può essere Oppure è talmente tanto basso Che non lo senti Ha fatto tipo la scala Eh in realtà sì Perché vedi che si strezzava sempre di più Il pitch era sempre più alto Il pitch uolo E vabbè questo era un video un po' corto diciamo Però è molto interessante Ho voluto fare questa cosa Per vedere la sua reazione E per scoprire anche voi Fino a che frequenza sentite Perché siamo curiosi assolutamente Niente era un video un po' diverso Bene quindi anche questo video finisce qui Questo esperimento Questo test Questo test Che ci ha sottoposto Federico praticamente Perché nessuno di noi Sappiamo l'esistenza di questo test Può finire qua A parte 5 milioni e mezzo di persone Va bene Vi ricordiamo di lasciare mi piace Commentare Condividere con i vostri amici E appunto scriverci qua sotto nei commenti Fino a che frequenza siete arrivati Esatto E alla prossima Grazie a tutti